Un connubio inedito tra 40 pizzaioli salentini e napoletani, 11 forni a legna, forum tematici, show con i campioni mondiali di pizza acrobatica e tanta musica dal vivo. Sono i principali ingredienti del Lecce Pizza Village, in programma da mercoledì fino a domenica 2 agosto in piazza Mazzini a Lecce. L'evento nasce dal sudalizio tra Apisa, Associazione Pizzaioli Salentini, Confartigianato Imprese Lecce, Napoli Festival Pizza Tour e l'Agenzia Eventi e con il patrocinio del Comune di Lecce. A partire dalle 19 tutte le sere nel cuore della città si potrà assistere a una celebrazione golosissima, laboratori, concerti e tanti assaggi alla ricerca della pizza più buona. Un carosello di appuntamenti divertenti e squisiti per rivendicare l'importanza della pizza nel panorama gastronomico e culturale italiano. La parola chiave del Lecce Pizza Village è qualità, solo pizza d'autore con i migliori forni e mastri pizzaioli che mostrano cosa sia la vera pizza napoletana e anche quella salentina. Un incontro non solo culinario ma anche culturale che metterà a confronto le due tradizioni, esaltando le diverse tecniche di lavorazione, le tipologie di impasto, le modalità di cottura. Tutto sotto gli occhi di turisti e visitatori pronti a gustare una pizza di prima qualità. Nel corso della cinque giorni si svolgeranno anche forum tematici e laboratori a cura di Apisa. Grazie al confronto con la tradizione napoletana, spiega il presidente dei pizzaioli salentini Giuseppe Lucia, promuoveremo la cultura del mangiare sano nel mondo della pizzeria. Altra importante novità ci sarà un forno dedicato alla pizza senza glutine e sarà possibile assaggiare anche la birra gluten free. Circa 1200 i posti a sedere dislocati in piazza Mazzini, trasformata per l'occasione nella più grande pizzeria a cielo aperto del Salento. Ogni serata sarà animata da concerti, show e DJ set. Da non perdere lo spettacolo con i campioni mondiali di pizza acrobatica del team Acrobatic Salento. Grazie. Grazie. Grazie.